Negli ultimi giorni la comunità Black Metal e anche altre persone ci hanno vissuto insieme nelle Instagram Stories. Ebbene, abbiamo ricevuto minacce di morte, siamo stati informati anche da altre persone che bazzicano alcuni gruppi Telegram, eccetera, le quali ci hanno confermato il fatto che stiamo ricevendo minacce di morte, che alcuni ci stanno addirittura cercando per venirci a picchiare. Signori, dire che sono veramente incazzato forse è un eufemismo. Per chi mi conosce sa quanto i miei modi su questo canale siano molto calmi e pagati. Questa volta però non ce la faccio. E voglio sperare che sia, un po' ci spero che sia un meme, ma conoscendo quella parte, quella parte di community Black Metal tossica, perché è solo una parte, e fortunatamente Danny, Poldo, i Rock4Rookies lo sanno, che è solo una parte, quella parte di True Blackster, quelli che si atteggiano a coglioni, si devono sempre far riconoscere per quello che sono. Ovvero un branco di ragazzini viziati che non capiscono un cazzo. Non capiscono che facendo così si vanno a chiudere sempre di più. Non lo capiscono. Oggi, come ho detto, mi vedrete incazzato. Non sarà un contenuto come quelli che porto di solito, ovvero molto tranquilli e pagati. Perché quello che sto cercando di creare, in poche parole, da un anno a questa parte, sta andando a puttane. Mi sento un po' preso in causa. Perché effettivamente io sto cercando di creare una community sana. Purtroppo per colpa di questi quattro coglioni di merda che devono sempre sembrare malvagi. Cazzo, andiamo a bruciare le chiese. Guarda, facciamo vedere quanto siamo True Blackster. Ovviamente non è così, eh. Lo so che la mia community... Lo so. Immagino che molti di voi siano entrati in questo video non conoscendomi. Quindi mi devo presentare, ovviamente. Io sono Frank Horsman e in questo canale parlo di black metal. Praticamente sono cresciuto io qui su YouTube parlando appunto di black metal, proprio di questo. E il mio sogno nel cassetto è di creare una community amante di questo genere che non sia appunto quello che ha detto Daniele. Ovvero, secondo alcuni black metallari e blackster duri e puri... Come lo sto facendo tutto questo? Spiegando i vari sottogeniti del black metal e andando ad analizzare i concept degli album che ascolto. È vero, certe volte troviamo una community elitaria. Una community d'elite, se così vogliamo dire. Ma perché questo? Perché i blackster veri, e dico quelli veri, ci tengo a sottolineare quelli veri, hanno una sensibilità enorme e fuori dal comune. Perché siamo misantropi? Eh, perché effettivamente sono poche le persone che ci possono capire. Sono poche le persone al di fuori di questa nicchia che possono capirci e comprendere ciò che ascoltiamo. Data questa premessa, il mio scopo effettivo sui social è proprio questo. Quello di far comprendere alle persone che non conoscono questo genere effettivamente che tipo di persone siamo. Non siamo dei mostri. Non siamo dei criminali. Non siamo persone violente. Siamo delle persone normali. Un po' misantrope e depresse, quello sì. Ma non è per colpa della musica che ascoltiamo. È per colpa della società. Ecco perché a questo punto io sto definendo la mia community, quella che sto creando, la community metal più controversa del web. Perché se tu entrerai in un mio video e mi vedi con questo cappello, o comunque oggi ho la maglietta degli Enziferum e vabbè, ma se mi trovi con una canottiera, o con la canottiera di Kuroko No Basket, tu mi puoi scrivere tranquillamente se sei uno stronzo, sei un poser di merda, quando in realtà però ti piscio in testa, occhi chiusi per quanto riguarda la mia cultura che ho sul black metal. Solamente perché ho una cazzo di canottiera? Solamente perché porto un cappello che è tanto metal, giusto no? Giustamente perché tu ti fermi sempre a quei quattro gruppi, quei quattro gruppi di facciata True Norwegian Black Metal, come fanno un po' tutti i True Norwegian, i True Blackster, no? Andiamo ad ascoltare qualcosa al di fuori di Mayhem, Darktron, Dark Funeral, e chi più ne ha più ne metta, adesso non mi viene in mente niente. No. Ascoltiamo solo quei quattro gruppi in croce, perché sono malvaggi. Detto questo, io regà so veramente furioso. Come dice Daniele, è impossibile ascoltare... Cioè, per noi metallari, è impossibile ascoltare generi al di fuori del metal se sei metallaro. Eh già, vero? Sei un poser se ascolti black metal, ma nel frattempo vai ad un concerto di rancore? Oppure, sono un poser se io ascolto Murubuto e Caparezza? Perché non sono metal. Sono un poser se ascolto musica classica? Ah no, forse quella me la fate passata, quella è tollerata. Non so, dipende, eh, perché dipende, perché alcuni true blackster non amano neanche il Symphonic Black, per cui stendiamo un velo pietoso. Ora potrete blastarmi per qualsiasi cosa. Fatevi un giro sul canale e vi posso assicurare che se voi guardate i video potete fare una lista lunga, un foglio, con le cose per cui potete blastarmi. Anzi, sapete che c'è, ve la faccio io la lista. Non usi canzoni appropriate a quello che stai trattando? Che è sto pianoforte? Ma che è sto pianoforte noioso? Ma non ti vesti come un metallaro, ma sei un poser. Leggi solamente da Wikipedia. Ma tu la conosci la storia di Cliff Burton? Sei andato a vedere i Mayhem e avevi l'ansia, avevi paura dei Mayhem, ma che cazzo di metallaro sei? Questi sono solamente alcuni dei commenti che ho ricevuto ultimamente nei miei video, però vabbè, oggi non siamo qui per questo. Era solamente per fare un esempio, perché giustamente sono su YouTube e anch'io ricevo queste cose. Oggi siamo qui per esprimere il mio cordoglio e per far capire che fortunatamente, fortunatamente, e fortunatamente anche Daniele, Poldo, Danny e RockforRookies lo sanno, non tutte le community di Blackstar sono così. E lo meno male, e meno male. Come ho detto prima, il mio sogno qui su YouTube è proprio quello di poter creare una community Black Metal sana, una community che possa condividere la sua passione, una community che abbia voglia di farsi capire, che abbia voglia di far capire cosa stiamo ascoltando e che cosa ci trasmette questo genere. Sapete? Chi più chi meno io seguo tutti e quattro questi creator. Per esempio, Daniele e Poldo li seguo assiduamente, Danny Metal e RockforRookies magari un po' di meno, però comunque sono persone creator che seguo e comunque stimo. Stimo tantissimo da cui prendo veramente molta ispirazione e a cui sto praticamente puntando ad arrivare, perché comunque nel nostro ambito sono veramente delle colonne, per cui direi che sono persone che veramente stimo e seguo a cui punto ad arrivare. Ora, a meno che non abbiate 16 anni, perché sì, perché sì, questi cazzo di ragionamenti di merda li ho fatti anch'io quando avevo 16 anni, li ho fatti, non sono arrivato mai a questo punto, eh, però penso che se non abbiate 16 anni abbiate capito che cosa voglio dire. Soprattutto, penso che abbiate capito anche, soprattutto qui ci tengo a specificarlo, che i Mayhem hanno fatto tutto quello che hanno fatto solamente per farsi vedere malvaggi, per conquistare una certa fama da malvaggi. Loro non erano così, loro non erano così, veramente. Riuscite a scavare, ci riuscite a scavare e a vedere il lato umano delle persone? A questo proposito io vi consiglio di andare a vedere il video che ho rifatto su Dead e vorrei sapere un po' anche dalle persone esterne quanti effettivamente qui su YouTube hanno trattato questo argomento come l'ho trattato io, sotto il lato umano di queste persone. Se ancora non l'avete capito, la scena black metal è vero, si basa su una facciata malvagia, ma è solo di facciata. Cioè, non lo capite, non lo capite che quando, per esempio, Necrobaccia, Rattila, Compagnia Bella, Telok, vabbè, comunque si è Mayhem, quando scendono dal palco sono le persone più tranquille di questo mondo, signori, cioè, ma lo capite? Ma lo capite? Torniamo a noi, torniamo a noi e vorrei dire l'ultima cosa, praticamente. Io conosco i miei polli, conosco la community True Norwegian Black Metal, quelli che, se non sono norvegesi, non si ascolta niente. ormai li conosco come le mie tasche, li conoscevo già da prima che aprissi il canale, pensate, eh? Pensate, li conoscevo da ancora prima che cominciassi a parlare di metal nel canale. Con questo, amici miei, mi sto riferendo appunto a Poldo, Daniele, Rockford Rookis e Danny. Non sto dicendo di sottovalutare quello che sta succedendo. Cioè, ovviamente non è che dovete abbassare la guardia, però, conoscendoli, saranno, è tutta fuffa, eh? Mi viene in mente un po' quando gli Antestore hanno ricevuto le minacce di morte da parte di, dei militanti del True Norwegian Black Metal, che poi sono rimaste lì, sono rimaste minacce. C'è la stessa cosa, regà, quando tu fai un genere che si distacca completamente da quello che è il True Norwegian Black Metal, ecco lì che arrivano i paladini del Black Metal, ma andate affanculo, andate. In poche parole, concludendo il video, quello che volevo far passare con questo, con questo sfogo è che non tutti noi Blackster siamo così e ci tengo io a a discostarmi, ci tenevo a discostarmi, io e tutta la mia community, a nome di tutta la mia community, ci teniamo a dissociarci da tutto quello che sta succedendo e da tutto ciò che praticamente da tutte le minacce che stavano arrivando. Io, signori, veramente, vi saluto, un abbraccio a tutti, un abbraccio a Daniele, a Poldo, a Danny, a Rock4Rookies, un saluto alla mia bellissima community, perché di cui mi fido ciecamente, a cui voglio veramente tanto bene e so che non farebbero mai una cosa del genere. Signori, io vi saluto, ci vediamo a settembre, sto lavorando a dei contenuti bomba e mi serve del tempo. Lo so che avevo detto ci si vede la settimana prossima, però mi serve un po' di tempo per poter strutturare bene questi contenuti che sto progettando. Ragazzi, ciao a tutti. a tutti.